In Via Cavour ci sarà un gruppo che interpreta le canzoni beat degli anni 60 e 70 e rock, si chiamano Ottava Strada. Poi Musica dell'Anima, l'associazione Musica dell'Anima che fa ballare la pizzica in Piazza Costanzi, una cover band di Ligabue che si chiamano Aders Liga in Piazza Marconi, i Black Cat Ears che sono un trio capeggiato da Angelo Panunzi che è uno storico pianista blues con un repertorio di blues e rock and roll in Piazza Veduti, poi ci sono i Benders, una formazione che suonerà davanti ai Gabuccini in Corso Matteotti con un repertorio di rock classico ma suonato da contrabbasso, mandolino e chitarra, poi ci sono i New Soul, un duo acustico nei giardini di Piazza Miani con appunto un repertorio acustico di rock, soul e rhythm and blues, l'orchestra di Fiati fanno un fortuna davanti alla Memo e per finire in Piazza 20 Settembre all'incirca le 22.30, 22.45 ci saranno i Coverland, una fantastica formazione che interpreta le più belle canzoni italiane ma non solo di la PFM, la Bertè, Battisti, Poo, Vasco, Baglioni, De Andrè, Ligabue, gli U2, i Beatles, i Toto con due cantanti veramente molto bravi Giuseppe Morgante e Mariangela Bucciarelli, è uno spettacolo veramente molto bello, è una formazione che tra i pochi mette in scena per esempio il concerto grosso dei New Trolls, quindi invitiamo tutti quanti a InGir per Fan dove il cibo e la musica, la cultura e l'arte sono sapientemente miscelati per il divertimento sia dei fanesi che dei turisti.